Come eliminare le rughe e i punti neri con lacqua di riso Come eliminare le rughe e i punti neri con lacqua di riso Il riso contiene grandiosi proprietà che permettono di ridurre la comparsa di rughe, soprattutto su viso e mani. Il riso contiene minerali, sostanze antiossidanti e vitamine che, assieme, agiscono direttamente sui radicali liberi presenti nella pelle. Attaccando i radicali liberi, derma ed epidermide della pelle mostreranno meno rughe e linee di espressione. Per preparare il rimedio hai bisogno di, 50 grammi di riso biologico, 150 ml di acqua fredda, 1 bottiglietta con diffusore spray e olio di albero del tè. Versa il riso nellacqua e fai riposare per 8 ore. Il mattino dopo, filtrai e versa il tutto nella bottiglietta, aggiungendo anche 5 gocce di olio dellalbero del tè. Per usare il rimedio applica sul viso pulito, e fai agire per vari monti. L'olio di albero del tè aiuta a mantenere il viso pulito, umettato e impedisce la formazione di punti neri. Per usare il rimedio applica sul viso pulito, un'ogitata e fai riposare per vari monti. Per usare il rimedio applica sul viso pulito, umettato e fai appodito, umettato e finiscono dal dato. Per usare il rimedio applica sul viso pulito, umettato e ha pato di potente, fai agire per vari monti.